Si è svolto a Santa Marina il tradizionale appuntamento con il pranzo per gli anziani, un'iniziativa promossa dalla Proloco Buxentum con il patrocinio del Comune. Una giornata piacevole trascorsa l'insegna dell'allegria che è stata anche occasione di aggregazione e di convivialità. Una bella manifestazione per augurare buone feste e per ringraziare tutti coloro che con l'esempio e l'esperienza rappresentano una guida per le nuove generazioni. Voglio ringraziare tutta la Proloco, in particolare il presidente della Proloco Paola Tancredi perché insieme alla Proloco stiamo facendo molte iniziative vicino non solo agli anziani ma anche ai piccoli, alle persone bisognose. Prossimamente con gli anziani quest'anno andremo a Venezia, a Padua, a visitare il corpo ancora intatto del nostro santo padrone che è Santa Marina. Quindi faremo anche una gita significativa, daremo la possibilità a loro di visitare una delle città più belle al mondo che è Venezia. Come avete trascorso questa giornata? In modo molto piacevole, è una bellissima occasione di convivialità che viene offerta alle persone anziane del nostro comune e va dato merito sia alla Proloco che all'amministrazione comunale di attenzione alla terza età. Sono stato a un tavolo dove ci siamo ritrovati con tanti amici, abbiamo discusso, parlato e ci siamo intrattenuti piacevolmente. Ci siamo divertite, grazie. E hanno fatto una cosa bellissima, grande comunque, ma sono sempre brava comunque all'amministrazione di Santa Marina. Molto bene, non me lo aspettavo veramente, benissimo. Mi ho parlato, mi ho mangiato, mi ho riduto. E' molto bella giornata. Siete contenti? Contentissima. 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 Contentissima.